Buonasera, che sapore ha una vittoria in Champions League? Un sapore enorme, su tanti punti di vista della classifica. Abbiamo fatto un passo in avanti per raggiungere il traguardo di passare turno. Il morale che per un po' ci ha mancato qui a Formello. Prima volta che ho vinto una partita di Champions, quindi per tanti motivi è stata di buon aspiccio questa vittoria. Tanti infortuni quest'anno a livello traumatico, non soltanto nella Lazio ma in giro un po' per tutta l'Europa. Un calcio più violento, più maschio oppure troppe partite tutte insieme? Le partite rimangono sempre tante, però il ritmo che giochiamo adesso è altissimo e si vede. Chi guarda le partite si possono accorgere. Giocando sempre così non hai la possibilità di recuperare. Tante volte vai in campo con dei dolori e delle contratture e poi va a finire che dai e dai e ti fa male. Secondo me le partite sono troppe, però purtroppo sono così. Noi e la nostra professione dobbiamo andare in campo. La questione della nazionale brasiliana è sempre aperta nel cuore di Gribari. Giocatori troppo forti davanti a te o che cosa? Ho avuto la possibilità in una settimana di affrontare due concorrenti che adesso sono punti fermi della nazionale come Naldo e Juan. È un sogno che rimane e io ci proverò finché farò questo sport e raggiungere almeno per una volta la maglia della nazionale che da bambino è il mio sogno più grande. Spero di vedere la Lazio con lo stesso spirito di martedì e magari deve vedere un Inter un po' giù di forma così abbiamo la possibilità di portare a casa il risultato. Sicuramente troveremo Ibrahimovic che in questo momento è più forte del mondo per quanto riguarda gli attaccanti, però non può avere paura. Servirà una difesa perfetta per fermarlo, quello lo sappiamo, però paura mai. Una curiosità per i tifosi della Lazio. Le mascherine che hai indossato, una con l'Aquila e l'altra con i colori del Brasile, le hai studiate tu o hai qualche referente in merito? Quella con l'Aquila, sì, ho studiato insieme ai fisioterapisti qui della Lazio che sono molto tifosi e l'abbiamo fatta insieme, quella dell'Aquila. Penso che faceva piacere anche ai tifosi e quindi l'ho fatta. Quella del Brasile perché la partita qua al Madrid la vedevano in tv aperta, come si dice così. Tanti brasiliani la vedevano e mi faceva piacere di far vedere a tutti che sono brasiliano anch'io. Dieci anni che sono qua, ho un cognome italiano sulle spalle, però magari qualcuno si dimentica che sono brasiliano anch'io. Un abbraccio a tutti voi, mi ha fatto molto piacere. Un saluto a tutti che ascoltano e seguono Soccer Time da Cribari. Ciao. Un saluto a tutti.